Ho un popolo numeroso in questa città, è il titolo della nostra assemblea, l'abbiamo già detto, ed è proprio da questo titolo che descrive lo stile del nostro essere dell'associazione alcale e della chiesa, l'associazione per il mondo, che abbiamo voluto cercare di lasciarci guidare nella cultura del nostro documento e sul quale ci proponiamo di riflettere, di lavorare durante questa assemblea per un appunto. La città è l'orizzonte della nostra potenza. Grazie a tutti.